Sono Nicola Tirapelle della cantina Tirapelle in Tarossa. Abbiamo conosciuto il papà di Marco, molto simpatico, e mi ha detto che ha un figlio che ha cominciato a vendere a casa. Lì ho parlato di essere in casa, avevamo una vecchia casa di doccate in campagna. Abbiamo pensato che sentiamo Marco e vediamo cosa ci dice se magari è in grado di vendere e così abbiamo contattato. Alla vendita la casa, ha preso in mano la situazione, ha detto questa casa sì, povera, perché chi li vende non sbagliare tanti, e automaticamente ha detto no, lui prendi quello che si deve perché effettivamente tetti scornessi, basculati che cadevano, una cosa o l'altra, una malconcia. Praticamente Marco si è preparato e ha cominciato a portare della gente in giro di due mesi e ha trovato l'acquirente. Marco è stato fantastico sulla sua linea ragazzo molto di famiglia e automaticamente ci siamo trovati benissimo. Vabbè Marco è una persona affidabile, sempre che tutti quanti li dovranno interpretare, lo conoscono, è una persona che si può affidare tranquillamente e anche a buon Marcasha io. Ciao Marco, ciao, 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 grazie a tutti, ciao.